L'importante è che siete tutti vivi. La roba si fa e si fa e si fa. Che mingasse, cofio! Doni, io so che sei la casca di doni. Oh, sì. Sì? Ma senti chi parla, volevo che te la fai con il Marocchi. Ma no, ma chi sta la pruvedendo? Beh, è una che sono uscita due, tre volte. Vedi, se c'è un certo andone me la voglio. Perché io a fare così? Sì? 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 Sì?